Ehi, ciao PC. Ciao Lisa. Caffè? Magari. Finalmente quest'anno si beve un caffè in pace senza qualcuno che faccia battute idiote. Ehi, ciao, la sapete l'ultima? Dio disse e Kung. E Kung Fu. Vabbè dai, però almeno c'è Don Vanni, no? Almeno c'è lui. Almeno uno se. Ci sono due mummie che si incontrano e una chiede l'altra come stai e altri gli spunti ben dai. Beh, guarda, almeno il direttore quest'anno è una persona seria. Sì, no, ma infatti, guarda, per fortuna meno c'è lui. Sapete come si chiama un prete che non si può toccare? Don't touch! E un prete che dice sempre non preoccuparti? Don't worry! Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, don't worry. Sì, 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 sì. Anche tu? Sì, sì. Sì, sì. E' un prodino. E un prodino. Ma se si deve che ci dicevi... Sì, è un prodino. Ciao! Meglio! Buon attimo! 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 I'm gonna be kidding